Ti posso dire che è la... E' quello che è veramente straordinario, è entrato e ha segnato, è questo giocatore straordinario, Morigno ha avuto ragione. Morigno sta parlando con la via Sanetti perché è chiaro che adesso con questo tipo di situazione tattica comunque l'Inter che non può più fare cambi è particolarmente offensiva, è un 3-2, 3-2 perfetto in pratica per attaccare ma un po' meno per difendere. E' allora andare a chiedergli di quali adattamenti c'è bisogno. Il vuoto per Cruz che aveva giocato 4 minuti contro il Torino, ha giocato una decina di minuti quest'oggi, sono bastati per il suo primo gol sagionale. Quattro giorni dal derby, lui che evidentemente nel derby... Grazie. Grazie.